Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le previsioni per la settimana dal 2 all'8 di dicembre. Allora, vi dico subito che non sto bene, anzi sto malissimo. Duro una fatica a cane a parlare, mi manca proprio l'affanno, penso si senta. Quindi io ce la metto tutta perché il mio senso del dovere nei vostri confronti è troppo alto, quindi non riesco a dire per un giovedì salto le previsioni, non ce la fa. Quindi io le faccio, però penso si senta, sappiate che è una fatica immane. Ogni parola è uno sforzo che io devo fare, quindi sicuramente taglierò, farò molto più breve. Quindi per questa settimana prendiamole così, però saltare proprio non ce la posso farmi, di giro proprio nel letto, non riesco. Però credetemi, è una cosa ammazzata questa influenza. Comunque, sento proprio no, ho l'affanno, non riesco a parlare. Quindi la farò breve, prendetela per quella che è, per questa settimana, va bene fanciulli e fanciulle. Allora, andiamo a vedere, primo mazzo di carte, avventurina verde, secondo mazzo, quarzo rosa e ametista. Come ho detto, lo farò breve. Andremo a vedere un po' i punti salienti della settimana. Nel frattempo potete guardarvi l'oroscopo del mese di dicembre, dei segni zodiacali. Sto cercando di finire anche quelli, insomma, pianino pianino, chiatta chiatta, spero da arrivare in fondo. Intanto vi ringrazio per l'affetto, come sempre, oceani, o io non lo so, boh, c'è un amore su questo canale. Grazie, 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 grazie. Bando alle cianci. Andiamo a vedere cosa accadrà settimana prossima. Andiamo. Allora, avventurina verde. Come ho detto nella premessa, facciamo un video un pochino più breve perché non ce la fa a parlare. Oracoli volume 3. Allora, abbiamo detto dal 2 all'8. Guardati anche l'oroscopo di dicembre per il tuo segno, l'ascendente e la luna, va bene? Allora, mamma mia, ma tolto il fiato, è proprio un... Vediamo. Lei, ah, qui c'è una donna che potresti essere naturalmente te, ok? Ma, avventurina verde, è anche una donna con cui tu ti relazionerai durante la settimana. Una donna che, a quanto pare, avrà il suo bel peso nella tua settimana. Sicuramente questa è una donna importante perché è identificata come lei. Quindi non come una figura femminile, ma proprio lei. Vediamo. Allora, 2 all'8 dicembre. Questa ci vuole per me la montagna, la forza. Bene, qui c'è sicuramente una montagna da superare, quindi una qualche difficoltà. Questa carta sembra parlare a me, quindi forza e coraggio per superare la montagna, va bene? Ok, vediamo. Come si dice, il Signore ti dà una cosa ma ti dà anche quell'altra. Quindi la difficoltà ma anche la forza per superarla. Comunque, vediamo i tarocchi davvero di che cosa ci vogliono parlare. Mamma mia, al 2 all'8 dicembre. Il 3 di spade, il giudizio, vediamo, vedete se sì, 3 di spade, giudizio, 4 di spade. Dove è qui la mettete? Ecco, facciamo così. Devono entrare. Il 10 di denari, come questa carta. 10 di denari. E il 7 di denari. Aha. Beh, allora, qui c'è sicuramente un qualcosa, una situazione in ripresa. Una situazione in ripresa. Non so perché fanno vedere questa donna. Ma qui non mi parlano di personaggi nello specifico. Però ci fanno, vedi, la forza anche qui, guarda. Quindi qui c'è un qualcosa in ripresa. C'è sicuramente uno stringere i denti, un dover stringere i denti. Ma c'è la ripresa da un qualche tipo. Ora. Sì, qui, guarda. O c'è stato un allontanamento da qualcuno, qualcuno si è allontanato, ti potrebbe arrivare una telefonata di riavvicinamento, perché posso vedere anche questo da queste carte. Una telefonata importante, una telefonata importante che arriva di riavvicinamento, di accomodamento, capito? Di, 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 sì, di riavvicinamento. Ma anche semplicemente se non vogliamo vederla dal punto di vista affettivo. Qui dopo una pausa, dopo un fermo di un qualche tipo, ci sono delle trattative che riprendono. Trattative che possono riguardare la casa, come mura, o proprio un familiare, capito? Un discorso di, una situazione familiare, un discorso di famiglia. Quindi qui la montagna, che mi parla di blocco, effettivamente lo vedo anche nel 3D Spave. Qui c'è una ripresa. Dopo un periodo di fermo. Ok, trattative che riprendo, semplicemente tu puoi riprendere magari dei lavori, tu puoi riprendere delle trattative per una compravendita. Cioè, e qui dipende, ovvio, no, anche dalla, dalla tua situazione personale. Quindi una ripresa di un qualche tipo, qui le carte sono, sono chiare, ma anche una comunicazione, una telefonata importante che senz'altro arriva, che riapre, riapre un discorso che si era un po' arenato, fermato, ok? Che era andato in pausa. So come spiegarti, capito? Andiamo a vedere. Mamma mia, mi sento come se mi fosse passato un camion sopra, perché, mamma mia. Guarda, sono qui a far video proprio perché vi voglio bene, perché dovrei stare solo a letto. Sì, qui c'è proprio un qualcosa che si riesce a portare a conclusione, capito? Quindi, come ti ho detto, una ripresa di trattative, una ripresa di qualsiasi tipo, una ripresa di qualsiasi tipo, trattative che riprendono, una situazione che riprende, dopo un momento di stallo, di pausa, di fermo, di stacco, bla 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 bla. Oggi la faccio breve, cioè non è che sto lì. Va bene, ragazze? Posso parlare. Andiamo a vedere. Ok, ne ho vista una volare. L'amore, subito, prima carta, l'amore, guarda che belle. Imeneo, oh, accidenti. 2,8 dicembre, l'artista. La farfalla. E la fortuna. Qui c'è proprio una ripresa, ma anche del denaro che arriva, eh. Del denaro che arriva o comunque una notizia riguardo a del denaro che deve arrivare. Vedi, anche qui ci sono molti denari. Va bene? Quindi del denaro che arriva, una notizia riguardo a del denaro che deve arrivare, bla bla bla. Non ho fiato per spiegarmi oltre, bambini. Sta settimana è così. Ok. Sicuramente qui c'è anche un incontro, perché c'è una telefonata affettuosa che arriva. Quindi anche quella, una telefonata affettuosa che riceverete d'amore, affettuosa, insomma, da una persona che poi incontrerete, perché qui c'è anche l'incontro di due persone che si vogliono bene. Quindi sicuramente c'è anche quello. Non ho belle carte, guarda, dall'apertura, da questo cuore trafitto con cui si apre la settimana, qui si chiude decisamente con la fortuna. Quindi la settimana si chiude in tutt'altra maniera. Fammi sapere quando ti arriva la chiamata da chi ti arriva, perché ti arriva segni zodiacali coinvolti, vediamo. Toro Acquario Capricorno Bilancia Sagittario Cancro Questo Niente Pesci Leone Scorpione E leone di nuovo. Allora Leone Capricorno Acquario Bilancia Ancro Toro Sagittario Pesci Scorpione Va bene? Poi quello che ti deve far fede è la stesa, tu lo sai. E poi se vuoi ascoltare il mio consiglio, ascoltati anche l'altro mazzetto, perché a volte ti risponde più lui che non quello che scegli te. Succede, non muore nessuno, vi devo fermare che non ce la faccio più, andiamo a vedere l'altro mazzetto. Andiamo a vedere quarzo rosa e ametista, vediamo un po' la tua settimana, andiamo con gli oracoli, vediamo. Un'emozione, un'emozione, che bello. Va bene? Quindi diciamo una forte emozione, va? Può essere proprio un'emozione d'amore, nel senso proprio amore, o semplicemente un'emozione, qualcosa di affettivo, un qualcosa di carino, che magari ci succede, va bene? Che ci farà battere il cuore, un qualcosa che ci farà piacere. Ecco, detta proprio, vogliamo vedere, ricordati l'oroscopo del mese di dicembre, sto finendo di concludere tutti i segni, vogliamo vedere. Mamma mia, mamma, ciao, ti influenzi, che poi è covid, cioè, io vedo. C'è un qualche commento, un qua e là, dice ma il covid non esiste? Sì, sì, io te lo darei, un po' tu me lo dici se non esiste. È influenza? No. No. Andiamo a vedere. Quarto ruolo da me che sta. Alla, Gaia, Nurt, ok, qui c'è la terra e il prendersi cura, no? Il prendersi cura, vi fanno vedere proprio il prendersi cura della natura, dovremmo farlo tutti. Ok, quindi l'amore, un'emozione e il curare qualche cosa. Magari semplicemente durante questa settimana tu ti dedichi a sistemare qualche cosa, no? A fare un qualcosa di positivo, prenderti cura di qualcosa o di qualcuno. Qui c'è proprio il prendersi cura, magari di un amore. Quindi potrebbe trattarsi anche, per esempio, se la voglio proprio tradurre, di una telefonata, di una comunicazione, di una telefonata, di una parola, di qualcuno, no? di affettuoso nei nostri confronti, qualcuno che si prende cura di noi, in altre parole, qualcuno che chiama o che si preoccupa di te, come stai, tesorino, capito? Un qualcosa, un riconoscimento affettuoso nei tuoi confronti, prendersi cura. Quindi magari qualcuno che si prenderà cura di te, per qualcosa, vediamo. Vediamo i tarocchi. Ho detto oggi queste previsioni sono un po' così, io non riesco a dire l'esalto, però le ho volute fare, ma non ce la faccio. Ancora è troppo presto, sì. Allora, la forza, guarda, anche nell'altro mazzetto è uscita la forza due volte, quindi qui c'è un qualcosa, insomma, che richiederà, quantomeno, la tua forza di volontà, la tua forza fisica. Vediamo. Ok. L'imperatrice, vedi? Dal 2 all'8. Il fante di coppe. Il 10 di spade. Ah, però c'è male. E le stelle. Ma, allora, guarda, e l'eremita. Qui siamo in guarigione, qui la carta lo dice, c'è sicuramente una guarigione. Siamo in ripresa da un qualcosa, magari da una delusione, da un dispiacere di un qualche tipo. Qui c'è stato qualcosa o qualcuno che potrebbe averci un po', un po' deluso. Però questo 10 di spade, non... Sì, è una cartacea, però, messo così, sinceramente, boh, capito, qui c'è questa guarigione, qui ci vedo proprio. Questa ripresa, capito, questa, o non so se è una telefonata, o semplicemente una comunicazione di un qualche tipo, che cerca di guarire questo nostro dolore, questo nostro dispiacere. Quindi qui potrebbe già essere accaduta questa cosa, capiti che ti voglio dire? E qui, durante la settimana, ricevere questa attestazione di aiuto, di... non so come dire. Cioè, qui c'è una guarigione ed una ferita. Ecco, io non so tradurlo meglio, sarà che mi sento male, bambine. Stasettimana prendetele così, eh. Capisco, non sono molto professionale a sto giro, ma tant'è. Va bene? Quindi qui c'è... fammi vedere... dov'è? Fammi vedere. Vedi? Esattamente, vedi? Qui c'è una... una delusione, un dolore, un dispiacere di un qualche tipo, che però viene lenito, viene curato, viene... capito? Ecco, in quella maniera lì. Io un pochino questo vedo durante questa settimana. Queste carte qui ce lo stavano... ce lo stavano dicendo. Qui viene guarita una ferita d'amore, in un qualche modo. Fammi vedere. Qui c'è senz'altro uno sforzo della sua volontà, ma qui fanno vedere anche una comunicazione, capito? Qui c'è una comunicazione anche che arriva. Una qualche lacrimuccia che vi è inversata, sicuramente, per un qualche motivo. Però, vedi, di nuovo c'è il guarire, la fortuna anche qui, la stanza, l'amore, anche nell'altro mazzetto. Quando vi dico guardare, vedi tutte e due... Capito? Il bambino e l'allegria e la lettera. Vedi? Qui c'è un qualcosa che viene lenito, un dolore, un qualcosa che ci è stato detto, che ci è stato fatto, che viene, voglio dire, guarito, curato. Però, insomma, qui c'è qualcuno, vedi, con questa terra, che ci abbraccia, che ci conforta, che ci dà conforto, ok? Che cerca di lenire il nostro dolore. Quindi qui c'è un qualcosa che viene guarito, un'emozione forte, sicuramente, una lettera, una novità che arriva. Non escludo anche del denaro, eh? Ok? Vediamo i segni zodiacali, non ce la fa ragazze, devo fare un video breve, non ce la fa, mi dovete perdonare, non ce la fa a parlare di più. Ok, ariete, con quali segni zodiacali avrà a che fare? Qualse rosa, vediamo. Ariete. Acquario. Questo, niente, ariete, acquario, cancro, leone, capricorno. Niente, niente, vediamo, eschiamo. Qualse rosa metista, guardatevi l'oroscopo dei segni zodiacali, per dicembre. Allora, vergine, capricorno, l'avevamo visto, sì, viene confermato, il toro, la bilancia, ariete viene confermato, pesci, e leone viene confermato. Allora, pesci, capricorno, acquario, vergine, leone, ariete, cancro, toro, bilancia. Ok? Quindi, un dolore, sì, un po' di lacrimucce durante la settimana, qui ci possono essere, sì, però siamo in ripresa. Qui arriva un qualcosa, un qualcuno che ci guarisce, che ci porta, ci tira fuori, ci porta a superare, a stare meglio. Cosa che mi auguro, anche per me, sinceramente. Un bacione a tutti, una felice settimana. Fatemi sapere, giù nei commenti, va bene? Io vi aspetto qui, eh? Se Dio vorrà. Al mio prossimo video. Ciao. Ciao.